Lepore in attacco, Lepore, Lepore, Lepore. Grazie a Bianco. Tutto a posto. Giovanni ha il gol qua. Bianco. 200 presenze per lui. Fuori di pochino. Lo punta sempre, lo mangia. Benvenuto, benvenuto il tiro. L'ho marata. Benvenuto. Bella, bella. Dovete vedere la partita? Boh, perché... Lepore, Lepore la difende. Lepore, la sponda, benvenuto. Oh, azione un po' di polosa. Argentone. Argentone. Putta il merda. Vì, Argentone. Ah, beh, ci stavo detto, no. Lepore prova il dribbling, ma non è il suo... È il suo repertorio. Tienilo, tienilo, dai. Non va da nessuna parte. Dai, che sono in difficoltà. Sì, dai lì. Paolo, 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 vi sto giù un tiro. Fuori di poco. Non si può sbagliare. Paolo, Paolo, paolo. è solo per solo però lì è da solo è da solo è bufala è con cosa? alzano il tiro, bribido prova ancora Argenton non ci arriva Argenton, gol del Prata sulla fascia destra, rientra la palla dietro calcio a lui esattamente un tiro del cazzo cross in mezzo spinta eh? Gerardo calcio di rigore! la palla è rimane lì il tiro! sulla linea! dai un passo vai Luca! vai Luca! è bene è bene grazie a tutti